Salve! Un po' di chironomi per la stagione estiva, specifici diciamo. Materiale usato, semplicissimo, uniflex, esclusivamente nero. Olografici a bandina un po' larga. Piro la costruzione, 8-0. Ami dorati a gambo lungo del 12, oppure questi neri della Kamakatsu. Una serie è questa. Nella bustina striscette di nastri colorati per confezione, tagliati a striscioline, che serviranno poi per fare i colori laterali dei chironomi. E la solita del collo. Ecco qui, 8 ametti appena terminati, pronti per essere legati sui loro bracciolini, e preparare così una nuova montatura. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. Giusti aração. the Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.